Una competizione creativa per accrescere la solidarietà verso la donazione di sangue e plasma, gesto gratuito e di profondo altruismo che risponde a bisogni della collettività. E' l'obiettivo del concorso scolastico I giovani e il dono, organizzato dalla FIDAS di Pescara. Premiati i migliori lavori degli studenti delle scuole medie e superiori di Pescara, Montesilvano e Ortona. Sulla manifestazione, tornata in presenza e giunta alla decima edizione, sentiamo Anna Di Carlo, presidente in FIDAS Pescara e Abruzzo. I giovani sono importanti, saranno i donatori futuri, ne abbiamo tanti che nelle scuole sono venuti a fare il donatore e continuano a farlo, anche se vanno a lavorare fuori e vanno all'università fuori. Come rientrano alla nostra città, vengono direttamente a donare. Il nostro compito è quello di continuare questo lavoro, perché io personalmente credo molto nei giovani, perché i giovani sono donatori futuri, sono la bellezza. Cosa dobbiamo dire dei giovani? E insegnarli anche queste cose belle, perché è importante che capiscono anche che c'è gente che soffre, che sta dentro un lettino di un ospedale, che ha bisogno del sangue, e il sangue purtroppo solo la persona lo può dare. Presente tra gli altri alla manifestazione è anche l'assessore regionale Nicoletta Verì, che ascoltiamo. Noi veniamo, non dico fuori, però da una pandemia molto forte negli ultimi due anni. Per forza di cose questa donazione ha subito dei rallentamenti? Sì, allora bisogna dire che l'Abruzzo ha un sistema di trasfusione valido, che ha permesso negli anni precedenti di essere sempre autosufficienti. Durante la pandemia c'è stata una lieve diminuzione, un lieve rallentamento, ma abbiamo subito messo in atto un sistema nazionale, anzi abbiamo presentato un emendamento a livello nazionale che è stato accolto proprio per dare ulteriori supporti, ulteriori strutture alla rete riguardo alla trasfusione. Un messaggio molto importante perché durante il periodo della pandemia si aveva quasi il timore di donare perché c'era l'ipotesi di poter essere contagiati, assolutamente no. Questo è già stato superato, abbiamo portato avanti una campagna anche di informazione che non è che ci si poteva contagiare attraverso la donazione, ma il nemico da sconfiggere era il Covid e non quell'elemento importante come il plasma che significa salvare la vita delle persone. Grazie.